Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, eccomi qui, sì è lui, è lui, è il grande Fabrizio Ciavoni Buonasera signori, buongiorno, 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 eccoci qua alla pezza del cinema Tutto a cappa, tutto a posto, allora un saluto speciale, a chi lo vuoi fare? Io voglio salutare il mio amico che voglio ricambiare il favore, che mi era salutato, ma voglio salutare Alessio Giuffrida che è il mio amico del cuore, che è un grande, adesso sta vedendo un film bellissimo, è uscito Grande Alessio, sei un grande, poi i personaggi importanti, volevo salutare, chi volevo salutare? Che ho visto oggi? Paolo Dirzi, perché ho visto stamattina il film, è piaciuto molto e lo saluto a Paolo Dirzi che adesso calcherà il red carpet oggi, quindi volevo fargli un saluto anche lui Ecco, e salutavo tutti i tuoi fan, perché tu hai tanti fan che ti seguono, la voglia, che ti seguono Io saluto i miei fan, saluto quelli che mi seguono su Facebook, su Instagram, proprio perché sono proprio attivo Ecco, però tra poco comincia ad essere più attivo su Instagram Grazie per carità, perché è più qua, saluto Gli amici di Stragult, Marco, giusto, saluto tutti i miei cari Grande Stragult La missione è imprescindibile, e niente, saluto Un passo da adesso al cinema e buona giornata Ciao, salutatore e Fabrizio Ciavoli, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao